Buona la prima, grande successo di pubblico per la proiezione del cortometraggio Iodon avvenuta ieri sera presso il cinema Alfieri di Corato. C'era molta attesa per il film diretto dal nuto regista e attore Pino Quartullo e prodotto dall'imprenditore barlettano Matteo Bonadies, autore anche del romanzo da cui la storia è stata liberamente tratta. Perché alcune scene del corto furono girate nel giugno 2012 all'interno del pastificio Granuro di Corato, lì dove la protagonista in un momento delicato della sua vita decide di rifugiarsi e perché la Puglia con i suoi valori e le sue tradizioni torna ad essere protagonista del grande cinema dal cuore. Alcuni tra i film più belli che ho visto in questi anni si ambientano in Puglia perché è una terra straordinaria e devo dire che questo corto che è nato grazie a un romanzo di un autore pugliese, Matteo Bonadies, raccontava la storia di una donna che lavorava in una grande azienda e avendo conosciuto Marina Mastromauro e la famiglia Mastromauro come azienda, devo dire che abbiamo spostato subito la storia del cortometraggio in questa azienda vera che è a condizione familiare e che rappresenta appunto un esempio di come una famiglia italiana sa farsi onore anche in un ambito diciamo commerciale ma anche alimentare con grande dignità, importanza e quindi abbiamo voluto fare un omaggio anche a questa famiglia e a questa azienda. Un cast d'eccezione composto dalla protagonista Margherita Bui e Atturi del calibro di Sergio Rubini, Massimo Wertmuller, Gianpaolo Morelli, Nicola Nocella, Crescenza Guarniri e sicuramente il fiore all'occhiello di una produzione che ha già avuto numerosi riconoscimenti in importanti festival del cinema italiano. Margherita Bui che ha vinto 6 Davide in Notello, quindi una delle attrici più importanti d'Italia, si è divertita a interpretare una delle storie alle Mastromauro praticamente, tant'è che quando torna in azienda abbraccia Marina Mastromauro come una delle sue sorelle e quindi ecco è stata un po' in corsa, abbiamo adattato la storia perché ci è sembrato come un regalo del cielo trovare questa generosità, questa disponibilità da parte di Granoro anche come set per come abbiamo girato nelle parti appunto del film. Per Marina Mastromauro, amministratore della Granoro, l'esperienza di ospitare un set cinematografico all'interno della sua azienda non è stata semplice ma in ogni caso assolutamente gratificante. L'obiettivo finale, ci tiene a sottolineare, è quello di promuovere l'immagine di una Puglia accogliente e sempre ancorata ai valori sani della famiglia tradizionale. In fondo è anche un modo di far vivere e vedere la nostra Puglia in Italia ma anche oltre confine perché credo che poi Pino partecipa a tante manifestazioni legate al cinema anche oltre i confini nazionali e spero più che altro di contribuire sempre alla volerizzazione del territorio perché poi è quella la nostra missione. Dopo l'evento di Corato, una nuova proiezione in programma lunedì 27 gennaio alle ore 20 e 30 al Cinema Opera di Barletta con ospiti in sala nuovamente il regista Pino Quartullo e il produttore Mattio Bonadies.